Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha incontrato questa mattina a Palazzo Iaco nei componenti del consiglio direttivo dell'associazione concessionaria del mercato ortofrutticolo di Vittoria, guidati dal presidente Gino Puccia, che ha motivato l'incontro con il dovere di una presentazione istituzionale al sindaco. Il presidente ha proseguito elencando alcuni temi relativi all'attività mercatale. Ci sono piccoli disservizi, dichiarato Puccia, che speriamo vengano superati. Vogliamo però avanzare anche delle proposte e non limitarci alle lamentere. Il regolamento del mercato è un nodo cardine che non risolverà certo tutti i mali ma sarà sicuramente un fatto positivo. Necessaria la sinergia tra i produttori commissionari e commercianti. Il regolamento deve costituire anche una prospettiva per il futuro della struttura, nell'ambito di un'auspicabile collaborazione tra amministrazione e associazione concessionari. Dopo anni di chiacchiere, ha dichiarato invece il sindaco Nicosia, si dovrà passare adesso alla sua approvazione anche con il parere della commissione di mercato. Oggi abbiamo predisposto una bozza più che altro tecnica alla quale potranno e dovranno essere apportati quegli emendamenti che scaturiranno da un'ampia concertazione con la città. L'incontro di oggi, aggiunto poi l'assessore all'agricoltura Lisa Pisani, è molto positivo perché sono presenti coloro i quali dovranno seguire l'iter approvato dal regolamento. Il mercato di vittoria è sicuramente un mercato alla produzione ma perché no alla commercializzazione? Questo aprirebbe nuovi spazi e nuove prospettive commerciali nell'interesse dell'intera economia cittadina. Ci stiamo attivando, ha concluso l'assessore Pisani, per avere nel nostro mercato anche commercianti esteri del Nord Italia.